AVE A TUT con l'Asterisk in questo video parleremo plurale maestatico di chris The Real Deal Cormier di cui ho già parlato in altri video e ne parlo perché è arrivato 6 volte secondo all'Arnold Classic dal 2000 al 2005 quindi una cosa davvero incredibile per un bodybuilder di questo potenziale e vi rimando a due video che ho fatto Uno è questo il miglior Chris Cormier dove analizza una sua vittoria all'Iron Man Pro nel 2001 e questo video me lo ricordo bene è uno dei pochi video che ho fatto che mi ricordo come se l'avessi fatto ieri perché mi era piaciuto molto farlo e sono pochi video che mi ricordo così bene Uno è questo, un altro è quello dove avevo commentato la vittoria di William Bonac all'Arnold del 2018 se non sbaglio e un altro video ancora più vecchio è quest'altro qui che ho fatto ben 4 anni fa ma immagino che sia una di tutta 5 se non erro Visto che deve un po' aggiornarsi YouTube e chris è un bodybuilder che chiaramente è una leggenda però non è di quelli inseriti diciamo nel gota degli Uncrowned Mr. Olimpia e chi sono gli Uncrowned Mr. Olimpia per eccellenza? Flex Wheeler, Sean Ray e Kevin Levron e il buon Chris Cormier a me personalmente piace più di un Kevin Levron Poi gusti personali, chiaramente quello che dico io è sempre il mio gusto, la mia opinione personale, la gente se la prende proprio a muerte quando io esprimo i miei pareri Ma questo è un canale di mie opinioni personali, cioè questo dovrebbe entrare nella mente baccata di molta gente però come ho detto in un altro video il ritardo mentale è la base sociale del nostro vivere quotidiano E appunto, tornando all'argomento del video, è un bodybuilder Chris che è arrivato a seconda all'Armone Classic 6 volte di fila tra l'altro Quindi oggi sarebbe impensabile che un bodybuilder di questa qualità non riuscisse a vincere l'Armone Classic Vedendo anche chi negli ultimi anni ha vinto l'Armone Classic, ma questo è sempre il suo discorso della qualità dei bodybuilder odierni, quanto si sia abbassata questa qualità E il motivo è molto semplice, danno molte pro card, molte divisioni, chiaramente per far soldi, non perché i capi della IFBB vogliano per forza promuovere il bodybuilding Cioè tutto ruota attorno ai soldi al mondo, tutto, qualsiasi cazzo di cosa ruota attorno ai soldi Quindi, più pro card, più bodybuilder, meno qualità, va da sé, cioè mi sembra scontata questa cosa Un bodybuilder come Chris Cormier, questa foto è fantastica, i tagli nelle gambe sono stupendi, ma la forma soprattutto delle gambe, più che i tagli Quindi, un bodybuilder come Chris Cormier oggi farebbe tranquillamente incetta di titoli di bodybuilding, cioè vincerebbe il Mister Olimpia Chris Cormier oggi E questa è una mia opinione, ma penso che sia condivisa da chiunque guardi questo video, da chiunque ne capisca un po' di bodybuilding Chiaramente non è il mio caso, perché io non avendo fatto gare parrocchiali non posso parlare di bodybuilding Così come chi non ha giocato a calcio non può fare la teleclonica di bodybuilding, chi non ha un cuoco non può fare il critico culinario E via dicendo, ci siamo capiti, io non posso esporre questi pensieri Però spero che qualcuno che ha fatto qualche gara parrocchiale, pagando 200€, possa confermare questa cosa Quindi, è davvero assurdo, vi rimando ad un altro video che ho fatto Questo non dico che sia uno dei primi video, ma è un video che fa parte del mio periodo iniziale In cui ho iniziato a fare video in maniera un po' più seria, tra virgolette Che si chiama appunto Ridateci gli anni 90 E questo video, lo stesso, me lo ricordo molto bene quando l'ho fatto Perché parlo di un'edizione del Mister Olimpia Non mi ricordo se sia nel 95-96, dove analizzavo un po' tutti i partecipanti a quell'edizione E mi ricordo che l'ultimo classificato era Pavel Jablonski Cioè che aveva un fisico allucinante, ultimo posto nel 95 se non sbaglio E Chris Cormier è uno che avrebbe dovuto vincere qualcosa in più Ma ha gareggiato in un'epoca di bestie, di mostri sacri Che se gareggiasse oggi, come detto, vincerebbe, secondo me, tranquillamente il Mister Olimpia Perché è un fisico troppo completo Davvero, non ha punti deboli evidenti È davvero molto, 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 molto completo Poi, uno potrà dire, sì, Flex Weaver aveva la vita più stretta Sì, Ronnie Coleman aveva il picco dei bicipiti migliore Quell'altro così, quell'altro cos'ha Ma questo è un fisico estremamente completo Come non se ne vedono oggigiorno E una cosa un po' triste di Chris Cormier È che quando aveva deciso di allenarsi con Dorian Yates Perché Dorian era molto amico di Chris Anche perché Chris era uno che faceva feste Si drogava, donne, sesso droga e rock'n'roll E Dorian, quando aveva smesso di gareggiare, si è dato un po' a quella vita Quindi erano molto amici Dorian voleva allenarlo per il Mister Olimpia Appena Jay Cutler aveva sconfitto Ronnie Coleman E Chris si era potuto insediare tranquillamente E qui parliamo del 2006-2007 E c'è anche un video di Chris Cormier Che si allena nella Temple Gym con Dorian a Birmingham E fa gambe e poi esce a vomitare all'aperto Quindi, se non l'avete mai visto, guardatelo perché è assurdo Si vede la sofferenza di Chris quando allena gambe E poi Dorian va a raccattarlo Mentre è in strada a vomitare E purtroppo lui ha avuto un brutto infortunio Ha avuto un infortunio alla colonna vertebrale Con un'infezione che l'ha debilitato Avevo visto il documentario I am the real deal Di... appunto su Chris Cormier Davvero... Se si fosse allenato con Dorian Mollando un po' questa vita di sesso droga e rock'n'roll Secondo me avrebbe potuto vincere un Mr. Olympia E battere Jay Cutler Anche perché Jay Cutler dopo che ha battuto Ronnie Coleman nel 2006 Diciamo che si è un po' lasciato andare Basti guardare il 2007 con Victor Martinez E ho fatto un video anche al riguardo Se spugiate un po' nel canale Forse si chiama Mr. Olympia Controversi 2007 E poi quando è stato battuto da Dexter Jackson nel 2008 Va da sé che non era un campione così dominante in quegli anni Secondo me Jay aveva fame quando stava inseguendo Ronnie Poi dopo che l'ha battuto si è un po' adagiato sugli allori E secondo me Chris è un bodybuilder superiore anche a Dexter Jackson Poi ognuno potrà dire quello che pensa Il mio gusto personale Penso che Chris fosse un bodybuilder superiore a Dexter Non per sminire a Dexter ovviamente Ma Chris è uno che Se non avesse avuto questi infortuni finali nella sua carriera Nel 2006 Poi ha gareggiato di nuovo nel 2007 Ma è stato il suo ultimo anno Secondo me avrebbe potuto diventare il Mr. Olympia O prendersi almeno qualche altro titolo importante Tipo l'Arnold Classic Che appunto non ha mai vinto Quindi spero che questo sia stato un video All'altezza del bodybuilding commentato in Italia Quindi purtroppo non ho fatto gare parrocchiali E non peso 85 kg al 5% di body fat Però vi dovrete accontentare di questi video Da ignorante che faccio ogni tanto In mezzo a quelli dove dico cazzate E faccio rutti Quindi fatemi sapere che ne pensate Di un po' tutte queste riflessioni Se pensate che oggi sarebbe il Mr. Olympia Se pensate che fosse superiore Anche a gente più blasonata Tipo un Kevin Lebron Secondo me sì Più completo di Kevin Lebron E poi aggiungete tranquillamente Quello che vi pare E se avete suggerimenti Restando in tema Arnold Classic Visto che questo è il mese finale Prima dell'Arnold Classic Sarà se non sbaglio Proprio il 6 marzo Suggerite video sull'Arnold Classic Buona! Grazie a tutti